Cappietto iniziale 6 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Inserisco l'uncinetto all'interno della prima catenella ed eseguo un punto bassissimo Ora all'interno del cerchio così creato eseguo 12 punti bassi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 9 10 11 12 Chiudo facendo un punto bassissimo all'interno del primissimo punto basso E una volta che il filo iniziale è stato chiuso nella lavorazione dei punti bassi lo possiamo anche tagliare Ok A questo punto cominciamo il primo motivo con la tecnica del crotat E devo eseguire 7 nodi doppi Cominciando dal secondo mezzo nodo perché il primo lo abbiamo già sull'uncinetto Quindi 1 1 2 3 4 5 6 5 6 7 7 5 6 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 16 17 17 17 18 17 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 30 Ok. Inserisco l'uncinetto Nel punto basso precedente Quindi questo è il punto in cui abbiamo eseguito questa sorta di petalo Nel punto basso immediatamente precedente inserisco l'uncinetto Ed eseguo un punto bassissimo Giro il lavoro in modo tale che il petalo si trovi a destra Ed eseguo 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 Salto un punto basso Nel punto successivo Quindi salto 1 Nel punto successivo inserisco l'uncinetto Ed eseguo un punto bassissimo Ripeto questo schema Quindi 7 nodi doppi 1 2 3 4 5 6 6 7 1 Pippiolino 3 nodi doppi 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 5 5 6 6 e 7 Chiudo 6 6 7 8 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 13 11 11 Ok, ora inserisco l'uncinetto nel punto basso successivo Questo è quello da cui partono tutti i punti del crotat In quello successivo inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo Ora 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 Salto il punto basso successivo Vado in quello ancora dopo Ed eseguo un punto bassissimo E ripeto questo schema Quindi 7 nodi doppi Pippiolino 3 nodi doppi Pippiolino 3 nodi doppi Pippiolino 7 nodi doppi Terminato anche questo petalo Inserisco l'uncinetto Nel punto basso successivo Quindi questo è quello da cui parte il petalo In quello successivo inserisco l'uncinetto Aggancio il filo Ed eseguo un punto bassissimo 6 catenelle 3 Salto il punto basso successivo Vado in quello dopo Ed eseguo un punto bassissimo A questo punto ripeto nuovamente lo schema del petalo Chiuso l'ultimo petalo Nel punto basso successivo Inserisco l'uncinetto Ed eseguo un punto bassissimo 6 catenelle Salto il punto basso successivo In quello ancora dopo Inserisco l'uncinetto Ed eseguo un punto bassissimo Chiudo facendo un punto bassissimo Nel punto basso Da cui parte il primo petalo Quindi inserisco Aggancio il filo Ed eseguo un punto bassissimo 2 catenelle E taglio Stringo Stringo E poi questo filo ovviamente andrà nascosto Questo è il motivo in crotat Terminato Ovviamente andrà inaminato Tirando bene soprattutto Le catenelle Le catenelle Perché appunto per metterle in risalto Perché altrimenti un poco si accartocciano Però ecco Questo è il motivo terminato Ovviamente questo filo andrà eliminato E poi io penso di montare una monachella Qui su questo pippiolino al vertice Però voi veramente potete utilizzarlo Come più preferite Potreste anche metterlo in questo modo E fare un ciondolo Però ecco infatti Tutto sta Alla vostra fantasia Al vostro gusto Spero che il tutorial Mi sia utile E mi sia piaciuto E ci vediamo al prossimo video Ciao